Stephen Clarke, direttore delle relazioni con i cittadini del Parlamento Europeo, tra gli ospiti dell'Oscar Pomiglio Blum Forum, il tradizionale appuntamento che quest'anno ha come titolo Human Design, dare forma alle idee, migliorare il nostro modo di vivere in un mondo in continua evoluzione. Stephen Clarke, dal 2012, è supervisore delle strategie di comunicazione del Parlamento Europeo, coordina la cruciale campagna di comunicazione, questa volta voto, dedicata alle elezioni 2019 del Parlamento Europeo. Infatti penso che questa volta è diverso, questa elezione viene al momento in cui si pongono molte domande rispetto all'Europa, la direzione dell'Europa è in gioco e penso che sia molto importante che tutti si esprimano, quella è la base della campagna che io sto organizzando con i miei colleghi, di incoraggiare la gente a partecipare. Quanto è difficile impostare una campagna di questo genere, Stephen? Proprio perché qui in Italia perlomeno si ha la sensazione che sia cresciuto in questi ultimi anni una certa disaffezione verso l'Europa. Non è facile, l'ambiente per chi fa una campagna di qualsiasi tipo è complicato perché il mondo ha cambiato anche a livello di fiducia della gente nelle istituzioni in genere, ma parlo delle istituzioni anche in modo molto generico, cioè le università, gli esperti, le medie tradizionali, i grandi giornali hanno tutti perso un po' la fiducia del cittadino, forse anche perché c'è una frammentazione della media, dell'informazione che riceve la gente. Quindi noi siamo in questo contesto, è per questo che noi abbiamo ritenuto opportuno e bene in questo caso di fare un campagna che si base sulla gente, chiedendo alla gente di stare con noi, di diffondere questo messaggio che è importante partecipare. Stephen, un'ultima domanda, cambiando un po' il punto di osservazione, come viene recepita in ambito europeo l'Italia, il nostro paese in questo momento politico e storico? Si vede che l'Italia sta passando un momento in cui la politica si è agitata, ci sono stati tanti cambiamenti, ma questa non è un'esclusività dell'Italia, in tutte le parti dell'Europa ci sono, come ha detto appunto, molte domande sul sistema, su come si svolge la vita pubblica.